Andiamo al segno della Vergine. Beh, devo dire che continua il trend estremamente positivo. Ecco, però voi dovete darvi una mossa. Questa è una giornata che potrebbe essere decisiva in riferimento ad un nuovo progetto di lavoro. Abbiamo detto che Mercurio in transito nel segno del Toro vi permette di rinnovarvi, vi permette di iniziare una nuova avventura, di fare delle nuove esperienze. Il Sole però sta per cambiare segno, sta per entrare nei gemelli, verrà meno un po' di vigoria fisica, di energia anche mentale. E allora questa potrebbe essere la giornata giusta per prendere una decisione. Perché poi sarà tutto più complicato e devo dire che il Sole tenderà anche un pochettino a confondervi, a rendervi anche un po' rinunciatari. D'accordo? Quindi se c'è qualcosa che dovete fare, fatelo senza rimandare in questa giornata. Se dovete dare delle risposte anche, fatelo perché questa Luna vi rende anche molto abili da un punto di vista dialettico. Ed è una Luna che parla di rapporti sentimentali che possono essere estremamente appaganti, risultano un po' superficiali, ma certamente ricchi di emozioni.